1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 Mariù te vengo con me 1 2 3 1 2 3 Mariù te vengo Allora, sentite qua Un tanto buonessere Buonessere, che stai? Buonessere No, ho sentito qua Per difendere il furlano L'ennesima puntata E dove? No O quindi scrivi una lettera Una missiva Missiva è troppo difficile Roba è facile Ma con le lettere Missiva, c'è anche la missiva Missiva è la calamità Tutto Tu hai ragione Allora Un scritto Un scritto Un scritto Scomincia Allora Allora Magnific 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 Bravo Tu sei bravo Magnific Presidente Magnific Magnific Punto 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 a Bernd, 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 Cedisino? Cedisino, e dunque, e dunque e dunque se si fa udors della trasmissione di Finini il Furlan e ho vinto bisogno per continuare i debati ho vinto bisogno punto di domande e tu mi domandarai quale c'è di domande? quale c'è? noi non ti costringim a dar i bets noi ti domandim ci dastu i bets? esatto sesto disponibil sesto disponibil a sesto disponibil 2 points sesto disponibil 2 points disponibil a a danos 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 aiúdanos aiúdanos maestri a portare a portare il Furlan si la lenghe la lenghe Furlane è Talmond Furlane noio 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 volarom calè volarom aler congiuntiv si 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 noio volarom volarom essi più importante il mondo intero 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 punto esclamativo punto esclamativo e poi mette anche una parentesi ok e si arriva la parentesi anche finito finito i tuoi affezionati non affezionati i tuoi amici i tuoi amici i tuoi amici che ti voti che ti voti che ti voti sempre o è la conclusione la tua voce la conclusione ma se tu fai felice o tu hai scritto mandi la conclusione che c'è mandi odisin par Furlan odisin concludo hai concluduto no? non è bene odisin par Furlan odisin orgogliosamente par Furlan odisin par Furlan BOOM